Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il bollettino Covid non sarà più giornaliero. Ad annunciarlo tramite una nota il ministro della salute Orazio Schillaci, il quale ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti. Tra le altre novità, il reintegro del personale non vaccinato. Oggi, secondo il report diramato dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, i nuovi casi sono 704, in calo rispetto alla giornata di ieri. Sono stati eseguiti 1.052 tamponi molecolari e 3.382 test antigenici. Un deceduto di 96 anni, 742 sono invece i guariti, 14.766 gli attualmente positivi, meno 39 rispetto a ieri. Diminuiscono i ricoveri in area medica, 162, meno 5 rispetto alla giornata di ieri, 8 in terapia intensiva e in tal caso il numero resta invariato. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila, dove se ne contano 170, Chieti 181, Pescara 195, Teramo 152 e 6 fuori regione.